Seconda lettera di Pietro Simeone Pietro, servo e apostolo di Gesù Cristo, a coloro che hanno ricevuto la fede ugualmente preziosa che abbiamo ricevuto noi nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. Grazia e pace abbondino per voi in una conoscenza approfondita di Dio e di Gesù Cristo Signore nostro. È la sua potenza divina che ci ha fatto dono di tutto quello che ci serve per la vita e la pietà, in una conoscenza approfondita di colui che ci ha chiamati in virtù della propria gloria e della propria forza, poiché ci è stato fatto il dono di promesse valide ed eccezionali, in modo che diventaste per mezzo di esse partecipi della natura divina, fuggendo la corruzione che si trova nelle passioni sfrenate del mondo. E proprio per questo, mettendo in atto tutta la vostra diligenza, aggiungete la virtù alla fede, la conoscenza alla virtù, l'autodominio alla conoscenza, la costanza all'autodominio, la pietà alla costanza, la carità fraterna alla pietà, l'amore alla carità fraterna. Tutte queste qualità, se saranno presenti e abbonderanno in voi, vi permetteranno di non essere inerti e infruttuosi nella conoscenza approfondita del Signore nostro Gesù Cristo. Chi invece è privo di queste qualità è un cieco che sbatte le palpebre, dimentico della purificazione avvenuta dei suoi peccati di un tempo. Perciò, ancora di più, fratelli, studiatevi di rendere salda la vocazione e la scelta di cui siete stati fatti oggetto. Facendo questo, mai subirete un danno. Così, infatti, vi sarà elargito doviziosamente l'ingresso nel Regno Eterno del Signore nostro e Salvatore, Gesù Cristo. Perciò non cesserò mai dal richiamarvi alla mente queste cose, anche se voi le sapete e, nella verità posseduta, vi siete già consolidati tra di voi. Ritengo opportuno, fin quando mi trovo ad abitare in questa tenda, continuare a stimolarvi con la mia esortazione, sapendo che il tempo di levare la mia tenda è vicino, come anche il Signore nostro Gesù Cristo mi manifestò. Mi darò premura che voi possiate in qualunque tempo, dopo la mia partenza, rievocare queste cose. Poiché non abbiamo seguito dei miti sofisticati per manifestarvi la forza e il ritorno del Signore nostro Gesù Cristo. Siamo stati invece spettatori oculari della Sua grandessa. Poiché Egli ricevette onore e gloria da Dio Padre, quando, da parte di quella stessa gloria sublime, gli fu rivolta una voce che diceva, «Il figlio mio, l'amato, è costui, ed io in Lui mi sono compiaciuto». Questa voce noi ludimmo rivolta dal cielo quando stavamo con Lui sul Monte Santo ed abbiamo resa così più solida la parola dei profeti. È come una lucerna che brilla in un luogo tenebroso fino a quando non comincia a splendere il giorno e la stella del mattino spunti nei vostri cuori. Sappiate anzitutto questo. A nessuna profezia della scrittura compete una interpretazione soggettiva. La profezia, infatti, non ci fu mai portata per iniziativa umana. Ma quegli uomini parlarono da parte di Dio, sospinti dallo Spirito Santo. Ci furono falsi profeti nel popolo. Ugualmente, anche tra voi, ci saranno falsi maestri, i quali introdurranno divisioni perniciose e, rinnegando il loro padrone che li riscattò, attireranno su se stessi una rovina veloce. Molti seguiranno le loro lascivie e per causa loro la via della verità sarà denigrata. Nella loro cupidigia cercheranno di comprarvi con discorsi artefatti, ma il loro giudizio di condanna già da tempo è in azione e la loro perdizione non ritarda. Dio, infatti, non perdonò agli angeli che avevano peccato, ma condannandoli al tartaro li confinò nelle fosse tenebrose perché vi fossero trattenuti fino al giudizio. Non perdonò al mondo antico, ma quando scatenò il diluvio sul mondo degli empi, custodì Noè come ottavo in quanto annunciatore di giustizia. Condannò le città di Sodoma e Gomorra, incenerendole, dando un esempio agli empi di quanto accadrà nei tempi futuri. Salvò il giusto Lot, tormentato dalla condotta sfrenata di gente senza legge. Infatti, abitando lui giusto in mezzo a loro, sentiva la sua anima retta tormentata giorno per giorno da ciò che vedeva e udiva in opere inique. Il Signore seppe salvare i buoni dalla prova e conservare i cattivi fino al giorno del giudizio per punirli, specialmente coloro che seguivano la carne nella bramosia di turpitudini e disprezzavano la degnità del Signore. Incoscienti ed egoisti non tremano e davanti alle manifestazioni della gloria bestemmiando, mentre gli angeli, pur essendo in potenza e forza superiori, non reggono al giudizio di condanna pronunciato presso il Signore su di loro. Questi, invece, come bestie irragionevoli, nate proprio per essere catturate e per morire, bestemmiano ciò che non conoscono e periranno della morte loro, subendo al loro danno il contraccambio della malvagità. Ritengono delizia il piacere di un giorno, macchiati e luridi si immergono nel piacere, facendo a voi buon viso con seduzioni ingannevoli. Hanno gli occhi pieni di passione per l'adultera, non cessano di saziarsi di peccato, adescano le persone deboli, hanno il cuore assuefatto alla cupidigia, sono figli di maledizione. Abbandonando la via retta si sono smarriti, hanno seguito la via di Balaam, di Bosor, chiamò la ricompensa di ingiustizia ed ebbe una lezione per la sua iniquità. Un giumento muto, esprimendosi in voce umana, frenò l'idiozia del profeta. Costoro sono sorgenti senza acqua, nubi in preda al vento della tempesta, è riservato loro il buio delle tenebre. Mediante parole tronfie e vanitose, adescano, sollecitando gli istinti lascivi della carne, coloro che non si distaccano del tutto da quanti stanno vivendo nell'errore. Promettono loro la libertà, mentre sono essi stessi schiavi della corruzione. Ciascuno, infatti, rimane schiavo di ciò che lo vince. Se, infatti, dopo aver fuggito le brutture del mondo, mediante la conoscenza approfondita del Signore nostro e Salvatore Gesù Cristo, impigliandovisi di nuovo, sono vinti. La loro situazione ultima diventa peggiore di quella iniziale. Sarebbe stato, infatti, meglio per loro non aver conosciuto la via della giustizia che, dopo averla conosciuta, tornare indietro dai comandamenti santi loro dati. A loro è accaduto quanto dice un proverbio vero. Il cane si rivolge verso ciò che ha vomitato e la scrofa, lavata, ritorna a sguazzare nel fango. Questa, carissimi, è già la seconda lettera che vi scrivo. In entrambe cerco di tenere destra la vostra coscienza retta mediante il ricordo. Dovete tenere a mente le parole che vi furono rivolte prima dai profeti santi e il comandamento del Signore e Salvatore trasmessovi dai vostri apostoli. Anzitutto dovete sapere questo. Negli ultimi giorni verranno schernitori sarcastici i quali si comporteranno seguendo i propri impulsi peccaminosi e diranno dove è andata a finire la promessa del suo ritorno. Da quando i padri si addormentarono tutto rimane così come all'inizio della creazione. A coloro che fanno tali affermazioni arbitrarie sfugge che i cieli in antico esistevano e che la terra prese consistenza dall'acqua e per mezzo dell'acqua in forza della parola di Dio e perciò che il mondo di allora andò in rovina sommerso dall'acqua mentre i cieli di adesso e la terra sono tenuti in serbo per il fuoco secondo la sua stessa parola mantenuti per il giorno del giudizio e della condanna degli uomini empi. Tenete presente solo una cosa, carissimi. Un giorno solo davanti al Signore è come mille anni e mille anni come un giorno solo. Il Signore nel mantenere la sua promessa non ha quella lentezza che alcuni gli attribuiscono ma è longanime a vostro favore non volendo che alcuno perisca ma che tutti giungano al pentimento. Il giorno del Signore infatti sopraggiungerà come un ladro allora i cieli scompariranno in un sibilo e gli elementi si scioglieranno nel fuoco assieme alla terra e a tutte le opere che in essa saranno trovate. Così dato che tutto questo dovrà dissolversi come dovete voi vivere una condotta di santità e di pietà mentre aspettate e affrettate la venuta del giorno di Dio quando i cieli incendiandosi si scioglieranno e gli elementi si fonderanno nel calore. Secondo la sua promessa aspettiamo cieli nuovi e una terra nuova nei quali soggiorni la giustizia. Perciò carissimi nell'attesa di tutto questo datevi premura di essere trovati da Lui senza macchie senza difetto in pace reputate un'occasione di salvezza la longanimità del Signore nostro come anche vi scrisse il nostro amato fratello Paolo secondo la sapienza che gli era stata data. Come in tutte quelle lettere in cui parla di questi argomenti ci sono dei punti difficili a capire che persone incompetenti e leggere stravolgono al pari delle altre parti della scrittura a propria rovina personale. Voi quindi carissimi avvisati prima state in guardia perché trascinati dall'errore di questi uomini iniqui non decadiate dal vostro livello di solidità. Crescete nella grazia e nella conoscenza del Signore nostro e Salvatore Gesù Cristo. A Lui la gloria ora e fino al giorno dell'eternità. Amen. A Lui la gloria a Lui la gloria a Lui la gloria a Lui la gloria a Lui la gloria